L'amministrazione porta a risoluzione la problematica del camper selvaggio. Con delibera di giunta è stato deciso di riservare ai camperisti alcuni posteggi, solo sosta, in via Romanelli, parcheggio Landolfi, parcheggio Guariglia, via della Lanterna. Tutti gli altri stalli presenti in città saranno riservati esclusivamente alle autovetture. Nel caso in cui i camperisti dovessero posteggiare in altre aree, saranno possibili sanzioni. Oggi parliamo della sosta nella nostra città. Abbiamo affrontato con una delibera di giunta il problema della sosta selvaggia dei camper. Abbiamo deciso di riservare ai camperisti, che pure sono ben accetti nella nostra città, alcuni luoghi in particolare riservati a loro dove possono parcheggiare. Si tratta di alcuni posti in via Romanelli, nel parcheggio Landolfi, il parcheggio Guariglia e via della Lanterna. Lì saranno destinati alcuni posti per loro. Posti per parcheggiare, attenzione, non per campeggiare, solo per parcheggiare. Riservando a loro questi posti, in tutti gli atti parcheggi della città saranno riservati esclusivamente agli automobilisti, in modo tale da non creare confusione tra le due tipologie di parcheggio. Cioè risolviamo così la questione annosa dei camper che si mettono magari in posizione in qualche modo di pregio e danno problemi proprio ai parcheggi delle automobili. Risolto questo problema poi abbiamo, ricordo, affrontato in maniera compiuta, con la stessa delibera, la questione del parcheggio Landolfi, stabilendo, come avevo annunciato, che esso sarà gratuito dalle 8 di mattina alle 18 del pomeriggio, per dare possibilità quindi ai nostri cittadini di venire gratuitamente presso il centro e poter dare un piccolo contributo, un piccolo sostegno ai nostri commercianti.